e da paura lo facciamo ripartire poi andiamo con special gas in the afternoon concentrazione tantrica fino a qui tutto normale adesso la vostra concentrazione deve salire al cento per cento adrenalina in ascesa energia a livello totale la mazzurra in after hour in the afternoon attenzione che è quello più fuori grazie 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 e allora praticamente siamo quasi in after special guest in the afternoon che mister Ricky Leroy grazie 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 Marzio del DJ, il special voice Tony Bruno, adesso è Ricky Leroy. Grazie a tutti. 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 a tutti.